Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Faccio un appello a tutte le donne, se il vostro ragazzo, un vostro amante, uno che vi scopate e basta, si sta guardando il gabrone Mi l'ignoratelo un attimo, lasciatelo fare i cazzi, suoi coin flip no, è troppo veloce Dio porco Ok dammi un 20 SIE I COTTO LAAAAA Un fatti da mille Uhhhh il roller coaster ok let's go dammi un 10 un 9 va bene va bene va bene va bene madonna raga è fondamentale sta mano ok 10 si raga che giocata che giocata mamma mia mamma mia di nuovo vai scopare con lei su un prato non ti piaceva da ragazzo no in realtà ero molto era molto fuorico in realtà ma come tutte le donne come sono schifo le penne no ma ma nel senso non che fa schifo la donna cioè le ragazze la mattina quando mi sveglio non mi piacciono se ne inventa sempre uno al buon grazie a uno che mi fa sgarare è Tete io amo Tete amo Tete a me fa io solo quando lui è il secondo Tete è tipo un cabbi non riuscito cioè nel senso io vedo Tete mi sta simpatico mi fa ride è già solo che lo vedo ma nel senso positivo mi diverte mi fa spaccare è uno con cui farei serata ecco Tete è lui in serata è molto molesto sì è abbastanza diciamo diciamo che non perde tempo io mi ricordo una una clip nell'ufficio di social dove si sentiva qualcuno che stava ansimando cioè un tipo che si stava scopando una tipa e girava voce che fosse Tete tipo cazzo che stava non lo sapevo se cerchi tipo ragazzi non seguitemi su Instagram quindi è il profit 62 è il profit 62 è il profit dai mi sono toccarichissimo mi sento non sono malato è tutto per show ragazzi tutto per lo show è tutto per lo show tutto per lo show abbiamo già perso tutto? no ah strano ma vaffanculo che cazzo un po' di fiducia che cazzo ma siamo ancora a zero qua c'è capito grazie 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 11 mesi che ab tra un mese arrivo a un anno oh oh bestemmerare per coddio grazie c'ho una paura che non potete avere idea ragazzi ti prego cucciolo è fondamentale ti prego ti prego non devi avere quel 19 di merda ti supplico ti supplico guarda tutti i 20 fatti andare tutti a 20 e 21 ti prego ti prego tu c'hai 17 ok si si siamo ancora vivi vogliamo un discorso per i 400k ok facciamo un piccolo discorso per i 400k io vi ringrazio a tutti voi per i 400k followers su twitch e in verità non me ne frega un cazzo perché 400k 300k 5000 l'importante è sborrare l'incorso è sborso l'incorso che si sta abbonando a Rubino può essere fanno un contenuto simile ci sta sono colleghi si però Rubino comunque è di un altro livello top streamer eh top streamer della sua categoria Rubino top reactioner top reactioner di twitch italia c'è chi dovrebbe imparare da Rubino eh no si si esatto sto in grado che ci vede è un colpo basso ho amore questa cosa complimenti ma un 2 così per ridere minchia se c'è davvero il 2 rido minchia c'è nato oh bro bro grazie coglione bro basta scorreggiarmi addosso dio cane dai ma che puzza fa frate ma che puzza zio di nuovo raga no perché l'ho fatta di nuovo 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 no raga ho sbagliato ho sbagliato tutto merda volevo fare 5 oddio cucciola ti prego si cucciola si 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 ragazzi di nuovo da 100 di nuovo da 100 un 9 contro un 4 oddio oddio quello un'altra copia perfetta non giocata nel mentre raga nel mentre all in quasi raddoppio è da fare raga è da fare dammi un 10 oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo Sì, cucciolo! Sì! Sì! Sì, la felice! Porco giusto, sborranto! No, non è vero, aprendo le distanze. È una citazione.